Usopp, tu sei stato un ottimo amico, ma è ora che io cerchi di cavarmela con le mie forze. Ma ho promesso che non ti avrei mai lasciata. E non hai bisogno di aiuto con il cantiere navale. Il cantiere era il sogno dei miei genitori. Io credo di dover fare qualcosa di diverso, come studiare per diventare un medico. Quindi, questo è un addio? Ma ci rivedremo un giorno. E quando succederà, voglio che mi racconti tutte le vere avventure di Capitano Usopp. Ehi, lo sanno che sono io il Capitano, giusto? Adesso lasciali stare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.